Musica Ciao fragoline e ciao fragolini Allora, nuovo video è un video un po' diverso dal solito che non ho mai fatto sul canale questa volta ho scoperto un nuovo ombretto praticamente magico e dato che io il make up non lo porto mai sul canale in senso che non faccio video make up, non li provo eccetera questa volta è diverso volevo provare a portare questo genere di video che sarà l'ultima volta perché non sono brava volevo farvi vedere i tre prodotti magici che io ho comprato su Amazon vi faccio vedere come si applicano più o meno e ovviamente vi parlo e vi dedico la mia recensione su questo prodotto questo prodotto l'ho scoperto tramite TikTok grazie a una ragazza e allora ho detto sembrava wow però vi dico la mia dopo a fine video intanto prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto che così li scoprite prima ovviamente tutto quello che compro per YouTube e lasciarmi un like se vi piace questa tipologia video questo video ma non credo che farò altri perché diciamo che mi vergogno ma poi vi spiego allora i prodotti sono tre io ho preso questi tre prodotti della marca EI Magic praticamente sono degli ombretti che tu metti ovviamente negli occhi ma in due secondi senza che tu stai lì piano piano io ne ho presi due colori diversi e un eyeliner ovviamente ho fatto una clip una mini clip su un occhio e vi faccio vedere l'applicazione allora non ho registrato come si deve perché uno stranamente il telefono quello di miam non so perché o la luce o è buio e non si vedeva niente per cui ho fatto una piccola clip di appunto due o tre minuti due o tre secondi per farvi vedere l'applicazione e se si applica adesso io ve le faccio vedere e poi vi faccio vedere l'applicazione iniziamo da questo non so adesso se lo vedete questo è quello marrone ah vi devo dire i prezzi allora i colori cambiano ma cambiano anche i prezzi su amazon quello azzurro che è questo qui l'ho pagato 6 euro e 95 ce ne sono dentro 5 di applicazione invece quello marrone che è questo l'ho pagato l'ho pagato 13 euro e 25 che mi è costato il doppio invece l'eyeliner 5 euro e 45 quando mi è arrivato l'eyeliner nella figura c'erano due eyeliner cioè vuol dire che quando aprivi la confezione ne hai trovato due io invece ne ho trovato uno sì beh come prezzo 5 euro ci può stare l'unica cosa che questo è di 0,2 grammi per cui non so quanto durerà praticamente non è neanche tanto però ci può stare 5 euro invece questi due cambia il prezzo allora i colori sono diversi iniziamo a farvi vedere uno vi faccio vedere il marrone quello che mi è costato di più e vi faccio vedere come sono fatti allora sono fatti così adesso non so se voi lo vedete perché c'è anche il riflesso sono 5 praticamente voi lo applicate 5 volte ovviamente lo applicate e poi si buttano perché sono usegetta sono fatte così e quando lo prendete da qua vi sporcate le mani perché io ho provato e appunto prima di registrare il video ho provato a truccarmi infatti questo è l'azzurro non so se lo vedete ma credo sì si vede questo è l'azzurro di questo qua questo qui è quello che indosso adesso e invece questo è il marrone allora ho detto provo l'azzurro non pensavo che si vedeva così tanto io dovrò dovrò andare a lavorare oggi pomeriggio e vabbè andrò a truccata così anche perché io non ho voglia di struccarmi per poi cioè vabbè starò così e questo qua è il marrone ovviamente non lo provo non lo testo sul braccio perché se no si consuma per niente perché questo lo applicate con una sola passata di due secondi sull'occhio che adesso vi faccio vedere la clip e e poi si 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 butta questo è quello che è l'ombretto magico che tutti ne parlano di questo ombretto magico e vi faccio vedere l'altra scatoletta che è questa vi faccio vedere la scatoletta che ho usato che è questo il colore che indosso come vedete l'ho usata perché qua non è uguale a quella di prima e calcolate che sono fatti così adesso vi faccio vedere sono così questo è l'azzurro quello che ho indosso io adesso non ho capito se posso usarlo per due volte o va usato una sola passata perché il prodotto c'è ancora poi con quello che l'ho pagato sinceramente sprecare un piccolo quantità così sinceramente no preferisco utilizzarlo ovviamente quando mi ritruccherò di nuovo vorrei riprovare a vedere se riesco ad utilizzarlo massimo poi vi farò sapere nel prossimo vlog comunque questo è quello che resta ancora una piccola quantità di ombretto adesso con la luce che ho poi il sole e questo telefono che non riesce a fare vedere bene le cose comunque questo è quello che io ho usato che è questo qua allora come colore è bellissimo è vero che lo passi in due secondi perché come avete visto nella clip che adesso anzi ve la faccio vedere adesso l'ho appoggiato l'ho schiacciato perché adesso non sapevo se si schiacciava ma credo di sì si schiaccia un pochettino lo appoggi sull'occhio e lo trascini piano piano perché ho notato che quando lo trascini piano piano non prende tutto il colore e di lì sono un po' così così perché non ti fa cioè alla fine dell'occhio non te lo fa tutto per cui ho dovuto passare alla fine dell'occhio una piccola quantità di prodotto per cui come vedete dalla clip io ho fatto solo vedere un occhio anche perché sono una che non mi piace far vedere le persone che sono struccata non mi sento a mio agio farmi vedere struccata e sono abituata così da quando ho iniziato a truccarmi mi vergogno e non sono cioè non mi sento proprio a mio agio a farmi vedere struccata e sono difficili per me questi video per quello che non faccio video make up perché sono molto più difficili per me farmi vedere struccata alle persone per tanti motivi perché poi dopo a parte che vabbè il giudizio degli altri non conta ma non mi sento a mio agio per cui è stato un po' difficile registrare questo video quando vi ho fatto vedere come si applicava l'applicazione all'inizio va bene quando però arriva a fine occhio non mi convince tanto non so quanto dura per cui vi farò sapere nel vlog quanto durerà lo terrò tutta la giornata calcolate che adesso sono quasi le 10 io fino alle 8 di sera lavoro per cui voglio vedere tutta la giornata quanto mi dura per il momento gli occhi non bruciano per cui direi che la marca sembra ottima è Verlin Magic che questa marca qua lo trovate su Amazon l'eyeliner non l'ho provato perché mi sono dimenticata che c'erano anche l'eyeliner ovviamente l'eyeliner è questo lo swatcho insieme a voi questo qua è l'eyeliner nero questo ok allora si gira e questa è la punta io non riesco a capire perché sto cellulare sta dando un po' problemi comunque proviamo a swatcharlo insieme allora con una sola passata direi che il colore lo fa che è questo vi dirò l'eyeliner ovviamente nel vlog come quando lo avrò applicato se va bene se ottimo eccetera perché giustamente mi ero dimenticata che avevo preso anche l'eyeliner quando io poi mi sono truccato ho messo il mio ho detto cavolo è vero che c'è anche l'eyeliner dovevo provare quello vabbè comunque questo è l'eyeliner è facile da da applicare ha fatto così e sembra piccolino non so quanto durerà vi farò sapere quanto durerà ovviamente basta solo una piccola quantità e niente questo qua è l'eyeliner allora vi dico la mia perché sennò sto video dura tanto sono un po' così così dovrò fare tante prove in senso che proverò questi prodotti quando li ho provati per bene eccetera vi farò una recensione come si deve per il momento sono un po' così così per il fatto che uno non so se vanno con due passate perché la quantità è ancora su oppure sono io che sto sbagliando qualcosa se anche voi avete provato questi prodotti fatemi sapere sotto nei commenti se vi siete trovati bene se l'applicazione e quello che vi ho fatto vedere è giusto e quello che ovviamente sto dicendo è giusto per cui fatemelo sapere datemi qualche consiglio così vedrò la differenza se ovviamente ho sbagliato io io so che si applica così perché c'è tra la figura e in più ho visto il video di tiktok di questa ragazza che basta prendere questo fate così e in due secondi è già passato l'unica cosa mi scoccia se va solo passato una volta e poi il prodotto che resta qua va buttato perché è uno spreco e io le cose non le voglio sprecare così per cui proverò a dare una seconda passata a vedere e e vediamo diciamo che boh all'inizio cioè i colori si vedono sono belli cioè come vedete sono bellissimi mi piacciono l'applicazione mi va bene l'unica cosa che quando appunto arrivate a fine un po' così così e poi ho notato che quando mettete questo ovviamente l'ombretto sull'occhio il primo sopra che adesso non so come si dice il primo sopra va praticamente proprio sopra un po' un pelino sopra le sopracciglia e resta diciamo troppo per cui non lo so io vabbè poi dopo l'ho corretto ho corretto perché proprio andava sopra qui e l'unica cosa che non si vede il terzo colore il terzo ombretto perché poi rimane troppo e voi cosa fate cioè almeno io sono abituata di tirarlo via un pochettino perché non posso andare in giro con tutto l'occhio cioè deve essere praticamente quasi così poi giustamente posso sbagliare io perché non sono tanto brava a truccarmi non sono tanto esperta sui make up e tutte queste cose lo dico già prima che poi è qui la sua giù per cui calcolate che devo ancora capire è la prima volta l'ho comprato da poco allora la spedizione è stata più o meno veloce se non sbaglio adesso mi ricordo tre giorni una settimana più o meno non me lo ricordo perché è passato un bel po' da quando l'ho acquistato i prezzi sono un pochettino esagerati per questi ombretti qua però dato che sono cinque applicazioni sugli occhi ci potrebbe stare poi vi farò sapere anche sull'altro colore com'è nel prossimo nel prossimo vlog i vlog che farò però per il momento si può dire che sono buoni per il momento vedremo niente ovviamente vi metterò tutto su instagram vi metterò le foto e vi metterò anche le foto di taggo praticamente perché c'è la pagina su instagram taggerò diciamo il marchio così almeno andate a vederlo sembra veramente per il momento buono poi ovviamente quando le testerò bene bene mi farò sapere voi intanto fatemi sapere se è giusto come ho fatto come vi siete trovati e se non ho sbagliato niente ma credo di no io spero che questo video vi sia piaciuto lasciatemi un like un commentino qua sotto e noi ci vediamo al prossimo video ciao